Luigi Palumbo, 49 anni, commercialista napoletano, il commissario straordinario nominato dal prefetto di Roma con il compito di gestire i rapporti tra Lama e i due impianti di trattamento meccanico-biologico della Colari a Malagrotta. La situazione di rifiuti è levemente migliorata, ma la criticità permane. Esiste ancora il problema di cassonetti pieni e strade sporche, del resto quello dei rifiuti fu il primo problema della Giunta 5 Stelle. Il ritorno a pieno regime delle due società TMB è necessario, secondo quanto argomentato nell'ordinanza della Sindaca Raggi, ad evitare il rischio rifiuti per la salute pubblica. Noi sappiamo che nei primi tre mesi si è ridotta la produzione di rifiuti del 3,5%, con un risultato economico anche straordinario di risparmio di 3 milioni di euro. Come pensate di ridurre la quantità di rifiuti di Roma? Attraverso 16 azioni misurabili che ci consentiranno di passare da 1 milione e 700 mila tonnellate di rifiuti a 1 milione e 500 mila. Quanto tempo? E andare al 2021, come obiettivo abbiamo il 2021. La speranza per i cittadini della capitale è che funzioni il nuovo piano di raccolta che punta, tra le altre cose, alla drastica riduzione degli imballaggi e al raggiungimento del 70% di raccolta differenziata porta a porta.